Ciao belli di mamma, siamo di nuovo qui con Cold World, World at War, spero di averlo detto bene perché la mia pronuncia è perfetta E siamo su Sangueferro, l'ottavo episodio, questo qua dovrebbe essere quello del carro armato, esatto, e questo è l'unico livello di code, almeno non ho giocato i primi code, dove possiamo guidare un fottuto carro armato Quindi non so se nel primo, secondo e terzo si poteva fare sta roba, ma comunque possiamo guidare un carro armato come cazzo vogliamo E che secondo me potevano tirarla avanti anche nei giochi futuri, sta, sta, diciamo, sta modalità, diciamo così, che non è una modalità Sto, sto coso, qua, che cosa posso dirlo, sta idea, ecco, la patina, ahia, chi cazzo mi ha sparato Poteva tirarla avanti e fare anche online, ma forse dopo diventava troppo, troppo batte, fino, non lo so A quell'epoca era uscito Bat Company 2, beh, era uscito Bat Company 1, Bat Company 2 non lo so Perché c'è tutto questo, aspetta, cosa sono morto, non sono neanche morta di queste cose, cosa sono, ahia, cos'è che mi sta facendo questo culo che sono giallo Ah, oh, che cazzo, c'è un carro armato, dove è il carro armato l'unico? Eccolo là, no, 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 eccolo lì, che non lo vedevo, era la base, mi ha immitizzato sto stronzo Morto? Sì, morto, sì, morto, morto Ciao, caro armato, come stai? Non credo molto, oh, meglio, bisogna che era il nemico, ho detto, sono fottuto Addio E, aspetta, questi non so se sono, dai, caro armato i teleschi erano quelli più forti Dopo ci vorrebbe l'opinione di Ghost, che è lui, quello esperto di battaglie Aspetta, questi sono tutti nemici, facciamo il culo Perché non mi ricordo, io non sono chissà che esperto So solo com'è andata la seconda guerra mondiale Se voi, se volete, vi faccio un riassunto Anche se, tipo, se guarderete questo video, quando dovete fare, tipo, la verifica, allora Il riassunto della seconda guerra mondiale Attenzione! Buon Hitler! Ok, ecco questo, questo è il riassunto, diciamo così Di tutto è seconda guerra, di tutta la seconda guerra mondiale Ho beccato quello là e molto caramazzo, non l'ho mica capito bene questa cosa, ma va bene Noi andiamo avanti con... Cosa c'è scritto? Io ho porno? Ah, non sembrava di porno! Ci ho visto lì la lettera da... Va bene, adesso mi stanno Tu esplodi Rotto in culo Na Tan tan tinu Tan tan na Mi ricordo che non sento quasi niente perché il volume è veramente basso E sto notando che i video almeno di... Sono già migliori, se mi ricordo di mettere... Albero di merda! Sincronizzati Non muore neanche questo albero del cazzo Aia Aia, sto... Mi stanno fattendo tutti Perché non esplode... Oh cazzo, c'è un car armato lì Ma sì, va bene, tu ti conto di me, sono? Muore te E il sole Mamma mia, che brutto sole E qua, anche qua l'hai fatto Là c'è un altro car armato Eh, io ho il radar, mio caro Esplodi Ok, spero se c'è un altro Ok, che stava arrivando Ma io lo blocco E ti attacchi Poi spara Oh, muori Muori Oh E cosa c'è qua? Ah, ok Perché tutti gli altri sono là? Io sono qua forever Allora, no, c'è un altro dietro Bella Vieni Car armato Ural Vieni Ural Oppure non so se è la flotta Che cazzo, non so No, cos'è un nemico? Sì, ovvio Sennò era peggio di me Era un forever alone supremo Oh, è ancora vivo questo zonzo Questo zonzo Trotta Perché ho detto trotta? Perché mi è venuta in mente la trotta? Adesso spiegatemi perché mi è venuta in mente la trotta Boh, guardami Ok, cazzo Eh, vabbè, non posso fare tutto Oh, oh Ural Ural Help me Aiutami Copertura Copertura Poca di copertura Ok Uno è morto Ural Vai Aspetta Facciamo i cecchini con il caro armato Ok Oh Mamma mia Ma recuperare la vita sto caro armato? Non me lo ricordo più Mi sembrava di sì Oh, era un altro gioco Che recuperava la vita Boh Aspetta, questo si può buttare giù? No Non è un bato Chi è che mi spara così dal culo? Eccolo là Ecco Vavardalo Ural Tu lo lasci Ok, bella lì Ural Cosa dobbiamo rompere? Quello Mamma mia La distruzione più totale Obiettivo Tanto io sparo a manetta Mi frega un cazzo Vedi che Tutti che corrono Nessuno a nascondersi Cioè Ural Vai avanti Aspetta Non c'è Oh, che cazzo Beh, vabbè Però una galata Esplodete Sì Se non avete Bazooka deficiente Non potete fare male Eh Ho un car armato Se non l'avete visto Che lancia fuoco Oh mio Dio Non vedo più niente Però Quale il fuoco? Fuoco 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 Ok, ci c'è Il car armato Oh mio Dio Nazisti Esplodete tutti Boh Non so cosa sto sparando Ma vabbè Non so a chi sto sparando Soprattutto Ural Oh mio Dio Sono giallo Sono tanto giallo Dov'è che mi sparano Cicchiniamoli Ho visto sangue Ah, eccolo Dov'era l'altro Car armato Abbiamo bloccato Che non riesco a capire Niente Aia Aia Dov'è quello? Guardali Sono quelli Non riesco a capire Dove cazzo sono C'era una torretta Adesso non la vedo più No, questo è schiattato Ok, eccolo Dov'è Aspetta Dov'è? Ma dov'è sto tizio Quello lancio Minicili Anzi Ci tizi Dai C'è ancora il car armato Vivo però Era Vivo Ma Guardalo Ma sto qua Mezz'ora Solo Sconfiggere Sto tizio Oh, è morto Io non riesco a capire Se è morto o no Chi è che mi spara Così Dai il culo Esplodi Ho sbagliato Esplode Oia Chi è che mi spara Dai Oh, eccolo C'era un altro car armato Lo dimmelo prima Che c'eri Anche te Oh, mio Dio Sono rosso Sono rosso Sono brutto Sono brutto Brutto colore Brutto colore Anche se il mio colore Via, via, via Scappa Scappa Via, via Corri Via Ok Ok, è giallo Perfetto Giallo mi sta già bene Facciamo il turbo col fuoco Pui Vediamo Il turbo col fuoco Sembra che sta cagando Va bene Dettaglio Io vado avanti qua Perché Eccoli Ma, va, va Sto figli di butana Volete schiattare Perché Stava ballando Quel tizio Che cazzo stavo facendo E' che arriva un altro car armato Nemico Ovviamente Via, 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 via Lasciamo stare Lasciamo stare Assoldato Via Via, asssoldato Jimmy Via Perché la stellina Mi tolla E se ne va sempre più distante Questa è una stazione Ok, dei treni Treni Italia Andiamo a distruggire Treni Italia Cazzo che ciccone Che ho fatto Mamma mia Oh mio dio Mi stanno bombardando Non vedo niente Non vedo Ok Adesso vedo qualcosa Quanti cazzo Carammate ci sono Oh mio dio Via Mordi e fuggi Dobbiamo fare Per sopravvivere Ok No Oh Puoi morire Ok Ed è morto Adesso Ce ne saranno Altre qua Questi andate a fanculo Eccolo là Mordi e fuggi Mordi e fuggi Dov'è? Raul Non fa un cazzo Come il diavolo si chiama? Aia Aia Mi hanno Sterminato Fanno più male Sono i dati Che i carammati Sono più pericolosi Sti tizi No Oh mio dio No No Proprio in mezzo Alla Beh vabbè Non fa un cazzo Devo ricordarmelo In futuro Se Affunterò un altro Carammato Leganato Salvo un cazzo Devo andare di bazzu Oh mio dio Sono ripetitivo Lo so Ma È l'unica Esclamazione Che posso Aia Che posso dire Oh Easy Sniper Cararmato Ma ma Quanti cazzo Ce ne sono Là È morto Ok Adesso Mi rimane Ah no È un sasso Quello Cos'è Sì È un sasso Mi stavo tollando Oh mio dio Quanti cazzo Via 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 Ah si ripara Anche dietro L'albero Sto stonzo Perché sa Che gli alberi Sono immortali Esplodi Male Morto Morto C'è Ce n'è uno In fondo Aia Non si capisce Se Cos'è Mine O Sono rosso Recuperiamo vita Sono mine Mi sta Tando Per esempio Oh mio No No Sta lì Sta lì Ti prego Non sta uccidermi Con la vita rossa Ti prego Non voglio ricominciare Da capo Ti prego Che culo Morto Mi ha ascoltato Le mie preghiere Thank you Ti vorrò bene Per sempre Fuoco 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 Perché non va avanti Oh Mi è andata a buttare I controller Ah no È finita la missione Ok C'è Isapro Oh Che stile Che cazzo stai a dire Resnove Con quella mannaia In mano Non ti sento Resnove Non ci sono Quei cazzo I sottotitoli E il volume Almeno Hai a due Hai ragione Hai ragione Nicolai Guardalo Che figo Che è Nicolai Resnove Sai che Non sto capendo Niente Di quello Che stai dicendo Ok Lasciamo stare Cazzo Già Già Finito la missione Non me lo ricordavo Così lento Petrenko Sergei Noi saremmo Insoltato Sergei Prussia Dispulsa Dispulsa Un bel po Siamo a Berlino Offenzione per aprile Oh mio dio Noi ci addentriamo Nel territorio tedesco Anche giusto Devo stare Soltito Ok Dopo così tanti Oh mio dio Ripetitità Ripetivi Ripet Che cazzo Stavo a dire Ok Me lo so Già scordato Annello D'acciaio Ok Questo sarà Il nome Della nostra Prossima missione E noi ci vediamo Che i prossimi video Ragazzi Veramente Grazie di tutto E Rappetta Questa è già Già la nonna Cioè Abbiamo quasi Ormai Abbiamo quasi finito Il gioco Ragazzi Cioè Ve l'avevo detto Mi sembrava Almeno Che le missioni Erano poche Quindi Ciao Belli